Buongiorno, ecco la prima sfida dal centro di riuso creativo del comune di Verona. Questa è la casa riciclina, è fatta di tante stanze, con il cartone che divide i vari piani. Voi potrete anche fare ne solo una stanza, magari con una scatola di cartone. A voi la scelta, certo potrete sempre usare tutte le cose che a casa non servono più. Questa casetta, fatta da Carlotta Gualtieri, è un po' l'attrattiva del nostro centro. Infatti tutti coloro che vengono, bambini e grandi, si soffermano a guardare quante cose si possono fare con i piccoli oggetti che di solito buttiamo via. Vediamo nei particolari alcuni esempi. Esempi, ecco questa per esempio è il salotto, la cucina con il tavolo e le sedie, la camera da letto con l'armadio, la cameretta dei bambini con la scrivania e i giochi, il bagno con tutti i suoi accessori, ma abbiamo anche la terrazza con l'ombrellone e il lettino per prendere il sole. Un solo, il giardino, abbiamo fatto gli alberi, piuttosto che dove possiamo stendere i nostri panni e l'orticello. Ecco, questi sono solo degli esempi di come si può riutilizzare i piccoli oggetti che altrimenti non ci servirebbero più, andrebbero nella patumiera. Aspetto i vostri lavori, le vostre casette, che potremo poi mettere in mostra una volta che finiremo questo periodo. Mandateci le foto al centro di riuso creativo chiocciolacomune.verona.it di riuso creativo chiocciolacomune.verona.it